Una caccia al tesoro ma in chiave turistica. È nata una nuova app per promuovere le marche e nei giorni scorsi è stata presentata in Regione. Ascoltiamo di cosa si tratta nelle interviste ai protagonisti. Sì, è una bellissima iniziativa tratta dai borghi più belli d'Italia, quindi diciamo l'aspetto regionale di questa associazione, dove vi ringrazio di cuore, dove ovviamente danno l'opportunità di far conoscere la nostra regione, i nostri borghi della provincia di Ascoli, Fermo, Macerata, ma anche le città capoluogo, con questo gioco. Ovviamente il mercato non solo è interno, che guarda diciamo ai turisti di tutta Italia, ma anche estero. E questo per noi è un motivo di grande orgoglio, anche per dare la possibilità ai tanti turisti esteri di venire qui da noi, così come anche ai turisti delle grandi regioni, per poter far capire che le marche sono una regione veramente bella da poter scoprire, soprattutto non solo dei propri borghi, ma anche della propria arte, della propria storia, ma anche dei prodotti tipici locali. Quindi io sono ovviamente soddisfatto, ringrazio ancora i promotori di questa iniziativa e spero possa portare dei frutti importanti per attrarre più turisti possibili nella nostra regione. Il catching è un'evoluzione nella caccia al tesoro. Abbiamo voluto unire turismo al gioco e una situazione innovativa per portare persone nei nostri borghi, ma anche nei nostri capoluoghi di provincia. E quindi attraverso questo gioco molte persone hanno cominciato già dal 5 luglio a cercare i tesori, ma i tesori più grandi ovviamente sono proprio i borghi che andranno a visitare. I borghi sono 17, sono i borghi delle tre province del sud delle Marche per ora, ovvero Macerata, Fermo e Dascoli, oltre ai capoluoghi di provincia. Un'applicazione di questo genere ha sicuramente un impatto turistico. Infatti quando viene creato un geotour, la prima domanda a cui si risponde è quanti giorni si vuole far fermare le persone in un territorio. In questo caso abbiamo ipotizzato un geotour, quindi considerato il territorio vasto, un geotour che prevede di essere realizzato e completato in almeno 5-7 giorni, il che significa che le persone staranno almeno 5-7 notti, quindi con tutto anche il fatto che si fermeranno, pranzo, cena, quindi c'è tutto un indotto sul territorio molto interessante. Quindi c'è una ricaduta turistica, una ricaduta per le attività economiche del territorio che sono interessate e grazie a questo strumento, che è uno strumento innovativo che sicuramente ha degli impatti anche misurabili ed è la cosa più interessante.